E' stato deciso a tavolino il campionato di basket di A2, altro che strisce di vittorie e battaglie punto a punto. E' bastata un'intervista del presidente della federazione, Gianni Petrucci, per dare mandato al giudice sportivo di escludere Siena dal torneo nel giro di tre giorni, riscrivendo la classifica e creando un precedente singolare. Schierando una formazione fatta di juniores e perdendo l'ultima gara di 30 punti, Siena avrebbe mantenuto un comportamento antisportivo, equiparabile ad una seconda rinuncia, la prima era stata la settimana precedente. E da nulla è valso il pagamento della rata di iscrizione al campionato giunto per il rotto della cuffia, né che ormai la stagione sia agli sgoccioli, a farne le spese quelle squadre che avevano vinto nel girone di andata, tra cui l'Orlandina, il cui giudice sportivo ha azzerato i risultati. In sostanza, scopriamo che dopo 25 giornate su 30, Siena non c'era. Al contempo possono festeggiare squadre che nel girone di andata contro Siena, oltretutto iscritte al campionato, nonostante fosse notorio che avesse difficoltà, tanto da partire con tre punti di penalizzazione, avevano lasciato le penne. Tra queste la potentissima Virtus Roma, corazzata creata per vincere il campionato, rappresentante della capitale, e che in A2 c'era finita per scelta. Già due anni fa il presidente Petrucci autorizzò i Capitolini ad autorretrocedersi per evitare l'esclusione del professionismo per questioni economiche. Roba da circoli sportivi romani più che da federazioni nazionali. Del resto, che le rappresentanti di grande città godano di un occhio di riguardo in questo sport non è mistero, tanto che il presidente Petrucci ebbe a dire lo scorso anno che pur non tifando per un club, tifava per la città di Roma, perché il basket diventa più popolare con la presenza delle grandi città. E pazienza se pagine storiche di passione in questo sport siano state scritte da Roseto, Cantù, Montegranaro, Iesi, Capodorlando o Biella. Nel basket è meglio un palazzetto da 15.000 posti vuoto, che la passione, l'entusiasmo e la voglia di emergere di piccoli centri. Così negli anni abbiamo assistito a squadre fallite tenute in vita artificialmente, a casi come quelli di Napoli in cui nessuno intervenne con la radiazione, perché altrimenti si sarebbe falsato il campionato, a ridicole wildcard per tutelare i club blasonati, a scandalose partite regalate per salvare la società amica blasonata. Tanto meno Petrucci si stracciò le vesti di fronte alla sola vittoria di Imola nel campionato 2013-2014, con una squadra costretta a tesserare addirittura il proprio allenatore come giocatore e perdendo una partita di 56 punti. Adesso a Roma basterà anche subire una sconfitta nelle prossime quattro gale per coronare gli investimenti della scorsa estate, mentre ci attendono mesi di ricorsi e polemiche. In fondo si poteva evitare tutto in maniera più semplice, fare un bel campionato delle grandi città, ad invito come avviene nell'NBA e solo con quelle società che hanno vinto tra gli anni 70 ed 80. Sarebbe stato tutto nettamente e terribilmente più serio. Grazie. Grazie. Grazie.